Le ultime terapie per la leucemia mieloide acuta si basano sulla possibilità di caratterizzarla molecularmente mediante tecniche di next generation sequencing, per cui mediante queste tecniche sono state individuate delle mutazioni specifiche che vengono ad oggi targettate da farmaci specifici che inibiscono direttamente le proteine che vengono sintetizzate da geni mutati. Questo approccio ha rivoluzionato e sta rivoluzionando il trattamento di moltissime malattie emato-oncologiche e anche delle leucemie acute perché è un trattamento specifico ed intelligente non scevro di effetti collaterali ma sicuramente effetti collaterali inferiori rispetto alla vecchia chemioterapia che non è stata comunque completamente ancora sostituita. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!